Buongiorno a tutti e grazie Favix, benvenuti, grazie, buongiorno a tutti. Allora, tocca a Dimir Ninja, perché le statistiche parlano chiaro. Avevamo un 6 su 9, quindi un 66% nel primo evento. Come vi dicevo, oggi si azzardano le side, ho provato ad azzardare una side per questo mio... per questo mazzo, diciamo, no? Pensando un pochino. Allora, la prima spell che sono andato a mettere dentro è Miscast, perché può essere il spell piercing più in questo setup, no? Lo fa solo su Instant Sorcery, però lo fa molto bene. Quindi, avendo già 4 spell pierce di main, se dovremmo giocare Best of 3, sicuramente Miscast è una delle carte che voglio avere in 3 per nella mia side. Così come voglio avere almeno il 2 per di Ambustinate, per rispondere alle vratte incounterabili di control, o per far tornare delle creature problematiche, oppure per far salvarci le nostre per poi magari risningiarle. Mi sembra la carta giusta Ambustinate per fare tutte queste cose. 2 per, o forse 3 per addirittura, no? Ne ho messe solo 2. Il 2 per di Sheoled Reddict, perché Aura potrebbe essere presente, ma soprattutto perché... Spacca Planeswalker. È vero che abbiamo già il 2 per di Bitter Triumph, però è anche vero che questo ha un drawback, mentre questo attualmente no. Poi concretizziamo il 4 per di Cutdown dopo quelle iniziali, perché dobbiamo concretizzarci anche contro i Super Agro Player, visto che i Super Agro Player comunque sono presenti, e quindi dobbiamo anche considerare il fatto che Maggy, ad esempio, abbia bisogno di avere qualche removal in più, non solamente Fatal Push. Dopodiché, dobbiamo andare nei confronti di UV Contro, oltre l'altro il 3 per di Ambustinate. Dobbiamo andare anche contro la presenza di Mono G Devotion, e quindi ho ipotizzato un 3 per di Dumping Sphere. Oltre a questo, mi sono detto, quelle potrebbe essere una carta che sta molto bene in questa strategia? La carta che sta molto, molto, molto bene in questa strategia è, senza dubbio, Anerth. Perché? Perché l'Urs potrebbe non bastare. Non possiamo giocare troppo haters contro il Cimitero, quindi probabilmente resterà un match-up negativo il caro vecchio Dragonstorm, che però dovrebbe essere colpito da Spell Pierce e da Mistcast. Quindi, dobbiamo accollarci il fatto che, purtroppo, non possiamo rispondere a quel tipo di sinergia tra le carte o di aggressione, ma possiamo prepararci per resistere contro, invece, chi fa già delle piccole spot removal su dei pezzi importanti. Considerando anche il fatto che, se si parte di Retrofeater Tottero, Anerth è anche un'arma in più per avere il secondo Tottero, quindi il secondo 4-4. Come vi dicevo, questo mazzo sul primo giro di boa stava al 66%, vediamo se concretizza questa percentuale o se va peggiorando. Il nostro studio procede. Ragazzi, mettetevi comodo e via così, e via così, e via così, e via così. Ah, è difficilissimo, scroto, è una menata gigantesca, infatti ci sono dei professionisti che lo fanno per lavoro. Quindi, se puoi farlo affidandoti a qualcuno, è sempre, sempre meglio. Dimir Ninja! Dimir Ninja ricomincia ad essere presente nel nostro test, quindi vamos. Allora, per ora, questo è, secondo Untapped, il mazzo più performante, più performante per Historic Best of One, no, Twins? Vado in ordine, vado in ordine, lo faccio per ogni singolo mazzo, piano piano, mentre riesco sempre di più o sempre di meno. Quindi vamos. Allora, no, non è possibile, Mattia, credo. Questa mano è ottima, anche perché abbiamo doppio pezzo, che vuol dire doppia sningiata, ma soprattutto abbiamo una mana base buona. Una mana base decisamente buona per andare a fare la nostra aggressione. Questo, secondo me, comunque è un mazzo che anche in BO3, zitto, zitto, le sue cose le fa e le fa bene. Perché comunque, cioè, a meno che ci sia dall'altra parte una strategia iperlineare, grazie Twins, la vedo dura che lui riesca a fare cose. Qui ci toglie il Moon Circuit Hacker. Sicuro, toglie il Moon Circuit Hacker, perché è l'unica cosa che pesca. Se non toglie quello, in realtà gioca male, perché è vero che il Silver Foo è più forte, però... Se mi fai scarto di primo, vedi questa mano, mi togli sempre il Moon Circuit. Per forza di cose. Purtroppo, Mattia, esatto, come dice scroto, non ci sono delle... Eh, io sono rimasto senza parole, ragazzi. Faccio la clip e porto a casa. Io non... Io non so. Non aveva tempo di giocare. Che cosa... No, 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 non bastano, ragazzi, perché c'è Karna, che sfasa tutto il numero per Mono G Devotion. Che cosa poteva essere di così traumatico... Nella mia mano, per farlo concedere in quella maniera lì? Cosa poteva esserci di così traumatico? Non me lo spiego. Ah, questa potrei provare a kippare solo perché c'è Fairy Seer per vedere se ci sono le terre in cima. Proviamo. Forse è tiltato dai ninja. Dici che ne ha trovate troppi? Sì, ma no, cioè, così... Così è pesante, ragazzi. Ah, Patu è in cima e anche Trionfo. Teniamo tutte e due. Perché Silver Fu va in combo, Outcast va in combo con questo. Comunque c'è una strategia nel nostro gioco. Mago. Allora, Mago. Mago. Combat. Sicuramente para. Perché sa bene di che mazzo stiamo parlando, secondo me. Quindi Outcast e a questo punto Retrofeater Foundry. Il turno dopo dobbiamo fare removal, quindi avere un 4-4 che spinge dovrebbe essere ottimo, no? Ciao Mauro, buongiorno. Buonasera, buonasera. Buonasera. Avrà doppia rimozione. Vediamo. Vediamo. Ok, pesca due, ci sta. È una mossa in realtà corretta in questo spot. Perché lui adesso sa bene che noi comunque avremo una raise più forte, quindi probabilmente cercare di portare aggressione sul nostro Outcast è corretto. Tanto è chiaro che noi andiamo a sningiare qui. Quello che non sa è che abbiamo in cima removal. E che quindi il suo attacco in realtà sia leggermente controproducente rispetto a quello che poi accadrà nel suo turno dopo. Perché così... Noi adesso potremmo andarci anche a sistemare la pescata. Che forse è quello che facciamo e teniamo in blocco un pezzo. No, quasi certamente questa cosa qua. Il turno dopo cerchiamo di fare la removal decisiva. E qui teniamo comunque un blocco. E abbiamo fatto sei danni importanti. Sì. Presumo che sia la mossa corretta da fare considerando che possiamo scattare una Foundry. Lui... Potrebbe... Avere... Sì. Potrebbe avere adesso fiamma di Anor che è molto forte contro di noi. Potrebbe... Ciao Baobab, ciao Bittone. Però... Se non ce l'ha... E se anche ce l'ha... Comunque deve fare due effetti che non sono i più forti. Perché deve spaccare artefatto e spaccare creatura. Non può pescare. Speriamo che non abbia lui rapido per flashbackare Mentor Guidance più che altro. Perché quelle sarebbero veramente troppe... Cose. Ok, no. Semplicemente toglie il Silver Foo. Accollandosi il fatto che il prossimo turno comunque noi gli facciamo molto male. Ok. Allora. Non possiamo più sningiare lui. Però possiamo fare pezzo... Più rimozione su... A questo punto Dreador Darkanist. Sì, è giusto. Sperando che lui non riesca a farci... Abbastanza danni poi. Non ha parato, giustamente. È che 11 sono veramente pochi. Considerando che andiamo a 5, sono ancora di meno. Però vabbè, Arcanista va tolto qua. Per non rischiare che lui poi lo potenzi col simmetri. Vai. Vediamo che mano hai e se basta per ucciderci. Potrebbe. Potrebbe benissimo. Potrebbe benissimo. Falux, si rifà il giro. Si rifà il giro esattamente come i due giorni precedenti. Però aggiungiamo la sideboard in ogni mazzo che andiamo a rigiocare. Se questo è rapido, sono dolori. È rapido. Ce la fa ucciderci? No. No, perché deve avere removal in mano per ucciderci adesso. E deve togliere il thousand. Oppure deve avere tre danni in faccia a noi. Ha tre danni in faccia a noi e vince così. Ok, ha vinto lui. Ha vinto lui perché adesso flashback ha il lining e moriamo. Va bene, giusto. GG. Allora, vabbè, non potevamo fare molto diversamente qui. Quindi ci sta. 1-1. Il matchup negativo con Maggi sapevamo che era questo. Lo sapevamo. Post side, andando a ragionare nella side che ho costruito, dentro due cutdown, due miscast, no anzi tre miscast, fuori probabilmente gli sningianti volanti e lo giochi da control. Ci può stare, ci può stare. Questo è, senza ombra di dubbio, un bel keep. Perché abbiamo doppio pezzo. Uno ci ha giusto la pescata, abbiamo removal. Abbiamo doppio sningiante forte in mano. Questa è una mano fortissima. Questa è una mano veramente forte se ci sono le terre in cima. Adesso ti leggo, leggo, eh. Beh, così. Allora, leggo chiede, per un nuovo giocatore consigli a versione monored budget senza rare oppure collerare? Senza dubbio collerare se puoi permettertelo. Non dovete neanche avere questo dubbio, ragazzi. Più la versione è ottimizzante, più è chiaro che vincete. Cioè, su questo non ci piove. Se avete le risorse per farlo, ripeto. È molto importante questa cosa. Se avete le risorse per fare le cose, fatele. Non si deve mai pensare se farlo o non farlo, se le risorse ci sono. Qui proviamo a spingere. Perché se lui ha removal sul silver foo, comunque dobbiamo diventare aggro. E lui credo proprio che avrà removal sul silver foo, considerando che è mononero. Se non la fa ora e ci fa pescare quello spell pierce, siamo più contenti, anche perché riusciamo a fare thousand face. Ma lui deve fare removal adesso al 300%. A meno che abbia solo editto in mano. Perché solo editto in mano ci fa sacrificare questo changeling outcast in una maniera molto buona. Eh, questa cosa è ottima per noi. Combat. Che poi adesso in realtà sninjiamo ornitottero. Madonna, se ha editto sta per prendere delle scopole clamorose lui. Allora. Questa risolve, secondo me, sacrifichiamo l'ornitottero. Perché? Perché lui farà più fatica poi a rispondere a questa giocata qua. Considerando che crea un token di silver foo ancora e considerando che i danni sono ingenti, no? È difficile che a tre mana abbia tripla removal. Può capitare, ma è difficile che ce l'abbia. Considerando poi che abbiamo spell pierce per i turni successivi. Non ci vedo così morti, ecco. Vabbè, qui si può anche far finta di niente sul trespasser. Abbiamo il 3-3 che vola. Aspetta, forse abbiamo appena vinto. Perché sninjio il 3-3, sninjio ancora sì, è gg per noi. È gg per noi. Grande top deckata questa. Facciamo così. Così. Eh, vabbè, questa è una top deckata della stramadonna, ragazzi. Sì, sì, questa è una top deckata incredibile. Sì, perché fai così. Trac. GG. 2-1. È forte questo mazzo adesso. L'hanno reso veramente forti. Queste liste qua sono iperforti, così. Ma chissà come mai questo mazzo però non gira nei formati eternal. In cartaceo. Perché mi sembra strano, nel senso che ha delle giocate e degli spot che sono molto ottimi. Per fare delle blizzate forti anche... Ma quanto stanno quei ninja lì? Ha pochissimo, sicuro. Un circuit hacker ha pochissimo. Il fu... Anche, credo. Secondo me stanno tutti a poco. C'è un enigmone, grande enigmone. Il thousand face non ne parliamo, però il thousand face è nerfato. Secondo me è diverso. È molto diversa la versione cartacea. Credo che costasse di più come costo di mana, no? Aspetta, fammi vedere. Magari è quella la risposta. Vediamo. È la versione normale. No, costa sempre uno ma costa sningiare quattro. Quindi costa uno in più lo sningia. Quindi ci può stare. Qui si fa il removal qua e si sningia il pezzo che pesca. Cerchiamo di fare vantaggio così. E vediamo cosa fare. È la stessa identica, Ugicus. Identica. Terra Tottero. Allora, Tottero lo possiamo fare subito, quindi lo peschiamo. Terra lo peschiamo il turno dopo per avere più mana. E vai. Vediamo se riusciamo a portarci a casa il matchup negativo con Maghi. E comunque sta a 31 centesimi il thousand face. Non sta esattamente a zero come alcune rare. Quindi non è così scarso. Lui può fare removal al 300% sul mur 5 attacker. Beh, non la fa, non si sa il perché. Non una grande giocata da parte di Oppo. Combat. Non possiamo sningiare qui. Perché se sningiamo qui... Lui ci mangia un pezzo. Quindi non sningiamo. Facciamo questo. E passiamo. E passiamo. Ma tra l'altro è Gabrix, ho visto adesso. Così che il turno dopo si possa fare sningiata più Pierce. Esatto, Enigma, esatto. Exactly, exactly. Vabbè, che tu abbia removal è chiaro. Bisogna vedere se ne hai due. O se cerchi di fare fiamma di Anor, tipo il turno dopo. Se fa fuori l'outcast, glielo lasciamo fare, senza dubbio. Sì, sì, senza dubbio. Ciao, Gabrix. Ragazzi, è la seconda volta che succede in questo evento. Io non ho parole. Non lo so. Sì, ma King lascia perdere. Adesso vedremo se si concretizzerà. Non lo sappiamo. Qui si sta già concretizzando abbastanza bene. Oh, Teo, ma non è possibile questa roba qua. Tenete presente che questo mazzo, secondo Untapped, e vi dico subito che non è corretta come statistica, ha l'80% di win rate in best of one, ma non è possibile. Ci sono troppi maghi che girano per avere quella percentuale lì. Sicuramente ha una percentuale alta questo mazzo, ma sarà intorno al 72-70% massimo. Non penso che sia vicino all'80%. Cioè, 80 è veramente tantissimo, ragazzi. Per chi arriva dal mondo di Magic sa benissimo di cosa parlo. L'80% vuol dire che su 80 partite le hai vinte 80 nei perseventi. No, ma non dovete. Grazie, Gabrix, ma non dovete concedere per rispetto. Stiamo testando. No, no, Gabrix, dovete giocarla. Dovete giocarla. Io ti ringrazio, però è sempre meglio giocarla. Preferisco perdere piuttosto che fare così. A Ninja. Mi riferisco a Ninja, ciò, ma... La percentuale di vampiri su Untapped è 54%. A caso anche quella, secondo me. Abbastanza a caso. Vabbè, qua ci toglie il Thousand. No, sai che forse essendo Mono Black toglie Spell Pierce? Sì, ma Cri, ma Untapped è fallato. Cioè, ne stiamo parlando da giorni ormai. Untapped è veramente tanto fallato, ragazzi, eh. Già come numeri è fallatissimo. Perché, ripeto, ci sono 5 milioni di giocatori attivi su Arena. 5 milioni. Questo mese ci sono stati 5 milioni di giocatori attivi. Sapete quanti di questi giocatori attivi sono stati registrati? No, non lo sappiamo. Ma volete sapere e ridere su quanti matchup ha registrato Untapped? Ha registrato solo 2 milioni di matchup, ragazzi. Sono pochissimi. Cioè, non ha registrato, se dovessimo pensare al Toto Account, ha registrato pochissime partite e basta. Quasi zero, in realtà. Cioè, non ha fatto neanche 2 partite per giocatore dell'ultimo mese. È una vergogna, ragazzi. È una vergogna. Cioè, definirlo affidabile è follia. È vera follia. Mi toglie il Silver Foo. È vera follia. Sono punti di riferimento da usare, ma usare con le pinze e chi più pinze ha più pinze metta, perché sono dati completamente fuori a ogni cognizione se sono raccolti in questa maniera. Questa mi sembra che la voglia pescare io. Piuttosto tolgo il trionfo. Dobbiamo far pesco scarto, no? Da down la togliamo. Vai. No, no, ma infatti Enigma, cioè, non è possibile che raccolga bene i dati. Ma chiunque abbia un minimo di cognizione sa bene che non è possibile. Il problema è che mi toglie lui. Eh, va bene. Toglimelo. Toglimelo, toglimelo. Se mi toglie lui, noi sappiamo di avere due pezzi protetti attualmente. Quindi va bene. Con la terra ci possiamo addirittura permettere di andare a prendere l'urrus, ma prima combatto per vedere se per caso il moon circuit pesca meglio. Esattamente, 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 esattamente. Ah, mi faccia un blocco. Va bene. Fammi pure c'è un blocco. Perché così me lo spari dopo, però mi hai fatto un bel piacere in realtà, così. Probabilmente scarto comunque ferisiera. Perché mi sembra che aggiungere l'urrus sia importante qua. Soprattutto se lui mi lascia il moon circuit hacker per qualche motivo. Vai. Sì, lego, sì, 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 sì. Assolutamente sì. Guarda, magari te lo metto io in chat, se lo trovo. Aspetta, eh. Tu dici da standard, immagino, lego. Perché monored, rare o senza rare, io l'ho portato in standard. Nell'ultimo momento cazzarola ci toglie l'urrus. Va bene. Ci toglie l'urrus. Bravo, Aptz. Non sta giocando male. A parte che ha pescato veramente bene e nessuno si aspetta più Orkish Bowmaster. Quindi sta giocando bene. Il suo grosso problema è che se per caso io adesso pesco terra, ci pensa Hive. Sì, standard, perfetto. Perché non serve a un cazzo, Rugicus? Te lo dico io perché. Perché la gente deve essere capace di giocare secondo la loro testa. È per quello. Allora, monored da standard è quello della metagame challenge. Quindi, pam, 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 pam. Eccolo qua. Qui in descrizione trovi un video molto, un mazzo molto molto forte. Vai. Nessuno è veramente affidabile. Ma ci mancherebbe, leggo. Ne top deck, ne MTG decks, ne Eterab. Sono tutti parziali, ragazzi. Tutti, dal primo all'ultimo. Anche perché si scambiano i dati tra di loro. Quindi fanno su anche un bel macello, in realtà. Ah, posso riprendere l'Urrus, però. Riprendiamo l'Urrus tutta la vita. Ciao, tortello. Va bene. Adesso rischiamo un po', ma pace. O la va o la spacca. L'Urrus è più importante decisamente di tutto il resto. La. 13. Cut down. Mi sa che difenderò l'Urrus e farò Ornithottero qui. Vai. Ciao, Nembo. Vediamo se ha removal sull'Urrus. Quasi certamente ce l'ha. Vabbè, non basta in realtà. Fatal push. Però avendo 5 mana, sapendo che ho il Manospell Pierce. Ciao, MDK. Va bene. Purtroppo va bene. Non posso neanche sparargli l'Orchetto, perché sparargli l'Orchetto vuol dire enablargli... Fatal push. Però si è tappato fuori. Prendo. Andiamo a 9. 9,7. Qui spariamo Orco. Poi Vito ci pensiamo. Pesco. Retrofitter è buona. La facciamo sicuramente, Retrofitter. Ovviamente non posso sningiare da qua, giusto? Esatto, non si può. Quindi non potendo sningiare da qua, tanto vale andare a fare così. Perfetto. Adesso, se Shelly attacca, gli mettiamo sotto un doppio blocco. Manda pure sul Discord, Nick. Potremmo attaccare anche Dilurrus in realtà, per riavere delle vite indietro. Qua ho sbagliato. Dovevo attaccare Dilurrus. Sì, Toxys, non vedo il motivo per cui non fartelo fare. Via Palantir. E speriamo che l'ultima carta non sia Invoke Despair. Speriamo anche che sbagli ad attaccare. Vabbè, ma qui non attaccherà mai. Esatto, Nick. Esatto. Cos'ha fatto al push in mano per attaccare con Shelly? Probabilmente sì. Perché se no... No, non ce l'hai? Misplayata clamorosa? Sì. Oh, misplayata clamorosa. Misplayata clamorosa di Oppo. Beh, qui adesso ho l'imbarazzo della scelta sul da fare, perché faccio chiaramente così. Poi attacco Dilurrus. Questo lo appoggio. Non penso che lui abbia modo di riprenderla, credo, adesso. A meno che abbia un'altra Shelly in mano, ragazzi. O Anello del Potere. Eccolo là. Vabbè, in realtà, in questa situazione qua, non è fortissimo Anello, eh. Cioè, lo protegge per un turno. Però mi dà tempo. E il tempo con Lurrus in campo... Non è così rosa e fiore. Grazie, Nick. Non è così rosa e fiore. Sì, sì, sì. Sicuramente tanti provano delle cose in questo periodo, ragazzi. Sicuramente. Vabbè, qui è questo e facciamo terra per animare la Hive, poi. Qui non possiamo attaccare, perché tanto previene. Vai. È un Giundo, ottimo. Ciao, Xice, ciao, ciao, Xile, scusa, Xile. Ciao a tutti, ragazzi. Grande, Simone. No, è molto forte come mazzo, mi sta piacendo tanto. Lui sta rischiando parecchio, però, qui, eh. Lui deve considerare che abbiamo Hive of the High Tyrant. Secondo me non sta considerando che abbiamo Hive of the High Tyrant, eh. 7 più 2, 5, anche se fa Shioldred, che fa? È morto. Perché deve andare in paro, no? Eh sì, io faccio così, scusami, eh. Guarda, facciamo così. 4-4. Sono 8 danni e questi deve già pararli. Quindi è morto. Come fa a vincere, scusami? Cielo, perfetto, grazie. Eh, combat? GG per noi? Misplayata clamorosa di Oppo, comunque, eh. Veramente clamorosa. Vai. Non so se cambia qualcosa, provo a togliere questo. Eh, Oppo, stai a 7, fai te. GG. GG. 4-1? Penso 4-1. Penso 4-1. Vai. Eh, vai, vai, vai. Anche qui, contro Mono Nero, miscast, sicuramente, per reggere gli scarti. E Ambustinate per togliere Shelly. E Editto anche, c'è anche Editto da mettere post-side. Anche perché post-side, on the draw, sai, tu devi comunque gestire la partita rispetto a quello che fa lui. Quindi ci stanno quelle aggiunte lì. Non mi sembra che sia sbagliata la side che abbiamo programmato. Spero che non sia sbagliata. Il mazzo gira veramente che è un piacere, comunque. Cioè, questo... Si vede che è un mazzo che è salito molto di livello nell'ultimo mese. Effettivamente ha pochi match-up negativi e probabilmente ha un tier 1 del formato. Probabilmente, eh. Poi bisogna vedere... Bisogna sempre vedere poi, però, tanto quanto va a influire nel meta Mono G Devotion. Perché Mono G Devotion, sappiamo tutti che è in un periodo abbastanza buono, se non buonissimo. Quindi dobbiamo capire... Perché tendenzialmente hanno gli stessi match-up negativi. Gli stessi, identici. E quindi sono due mazzi sui quali bisogna sempre andare a ragionare insieme, secondo me. Il fatto che muoiono entrambi male da maghi potrebbe non farli essere un tier 0 troppo potente del formato. Però sicuramente... Sicuramente le cose vanno a incidere sulla loro presenza. Control sta molto male da Mono G Devotion, Rugikus. Bisogna cercare di capire quanto a vicenda si influiscono tutte e due, secondo me. Qua facciamo questa per avere un token in più. Sono danni. Chissà se gioca a Languish. Se non gioca a Languish riusciamo a tenere due pezzi in campo, forse. Se non ci ruba il token o il thousand con un charm... Ciao, Toldo! Grande Toldo! Ah, devo fare... Grazie, grazie chef. Si testa per la challenge, corretto. Ha peccato questa rimozione che ci toglie lui. Speriamo non abbia push o un altro editto. Sarebbe il terzo. Può fare Snapcaster, ma Snapcaster... Ok, Drone in the Lock. Quindi Outcast sicuramente. Simena, si sta open di questa Pierce. Oppo a 7. Questa Pierce tra l'altro è molto forte. Il turno dopo ci può permettere di fare Moon Circuit sull'Outcast e vedere cosa succede. Ma quante rare ha Ninja e ne ha tantissime. Non ne ha tantissime. E purtroppo questa lo paga, quindi... Tanto vale... Tanto vale che risolva. Teniamo in difesa l'Outcast. Potrebbe avere Charm. E l'Outcast mi serve per sningiare e pescare. A terra sicuramente. Combat. Dobbiamo trovare anche lo spot per raggiungerci l'Urrus contro questo Dimir Control qua. Lui potrebbe qui fare... Rimbalzo. E basta, credo. Noi peschiamo, cosa non ci fa schifo. Ciao, Deme. Grande Deme. No? Così? Va bene? Sì, è giusto. Perché adesso facciamo questo. E quindi il turno dopo... Qui lui ci arma. Se me è lui pesca due qua. Non pesca due? Ciao, Arasma. Sì, praticamente ha questo come Rara e le Lande. Le Lande e le Foundry. E l'Urrus. Però attenti che muore abbastanza male da Maghi, eh. Maghi on the play lo asfalta abbastanza. Liliana del Velo. Paga il mana. Fammi sacrificare una creatura. No, qui non sningiamo. Aggiungiamo l'Urrus. Vai. Allora. Avrei potuto fare anche questo. Ma siccome lui ha Kalim. E se fa Kalim più removal ci manda sulla luna. Dobbiamo capire cosa fare. Come Sido contro Maghi metto dentro le due cutdown in più e i due edit in più. Si mettono i miscast e si gioca da controllo praticamente. Lui ha counter su questa. Quindi prima si va in combat qua. Prima si va assolutamente in combat. Che poi noi abbiamo dei... No. Combat. Lui dovrebbe fare Kalim. Se non si vuole far fare un vantaggio. Invece non ha fatto Kalim. Questa cosa è sciocca. Questa cosa è sciocca. Devi fare sempre Kalim. Mi fai scraiare due. Pesante questo scrai due. Eccoci. Allora. Scarto cutdown. Dentro. Che si può prendere un counterspell. Questo. E questo. Vai. Ciao Zanna. Editto. Ah ok. Me lo sparo io. Ho capito. Mi toglie un volante. Vai. Così non guadagni vita. Ma è un bug. Visivo la chiazza chiara che si fa intorno alla freccia di attacco. Sì può essere. Può essere. Può essere. Può benissimo essere. Allora qui Kalim deve arrivare però non puoi permettermi di attaccare con due pezzi. Credo. Poi chi lo sa. Vediamo. 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 The One Ring. Push. Vai. Allora. The One Ring è forte per lui se asci oltre di mano però. Perché se non ce l'ha. Rischiosa come mossa. Soprattutto considerando che lui sa che abbiamo l'Urrus in mano. E noi qua senza ombra di dubbio lo si fa. Lo si fa e si va a mettere dentro l'altro volante per fare la sningiata del destino. Lui potrebbe avere scarto. Vedremo se ce l'avrà. Vai. Oppo a 5. Se fa Shelly quattro mana vanno su Shelly due mana devono stare su Kalim o sul gestire l'Urrus. Vediamo. Potrebbe avere anche tripla removal per il numero di mana che abbiamo noi. Sicuramente Snappo è una removal. Che però è Drone in the Lock e che toglie l'Urrus secondo me. Che canzone era quella di prima? Te lo dico subito. Quella di prima era... Wondering Wines 20 di Eric Lohrer. Beh, il top deck è ottimale. Per avere una sningiata in più. Ma ci interessa avere una sningiata... Allora, se fa Kalim pre-combat, sì. Se non la fa... Boh, abbiamo vinto. Molto forte Ninja contro controllo. Molto forte Ninja contro controllo. Molto molto forte. Eh, qui è un disastro però. Perché sningiamo due volte ed è finita per lui. Così. Copiamo. Se non ha push in mano adesso è morto. Eh, sì. Se non ha push in mano adesso è morto. E comunque muore di... Di anello. A premio. Hola Daytrock. Hola, hola. Molto forte Ninja adesso. È bello... È bello solido. È bello, bello solido. Bello, bello solido. Allora, contro Dimir Control. Con la nostra side avremmo messo dentro. Post side. Sempre mist cast. Che è fortissima. E... Probabilmente avrei tolto... Due cut down. E avrei messo dentro un bastinate. E avrei messo dentro un bastinate. Senza dubbio. Siamo on the play qua. Keep. Questo è un bello on the play. Eh, Dimir Mina ha fatto sei, ha fatto. Ha vinto due partite all'ultima card, tra l'altro. Otawara. Otawara. Vai. Questa è terra nera per forza. Via lui, ma il resto si tiene. Cioè, il secondo maestro è troppo forte qui. Speriamo che lui non ci spari lei. Ok, quindi siamo contro enchantment. Se non ricordo male cosa gioca Godlike. Combat. Maestro per forza. Perché poi facciamo outcast. Eh, ma sono forti adesso, in realtà. Guardate che non sono così scarsi di Mir Mille. Pensavo molto meno solidi. In realtà perdono solo da maghi. Perché per il resto si comportano abbastanza bene. Combat. Vediamo se fa l'errore. Ma lui fregherà... Cioè, se io non ho spell Pierce, a lui fregherà qualcosa di quello che sto facendo? Sai che probabilmente no? Perché io devo avere spell Pierce prima che lui completi la sua combo, no? Quindi per quanti danni gli faccia, già Authority lo carria. Se io non trovo spell Pierce, sono un pochito sulla luna, no? Tengo in cima terra per giocarla. Ah, ma se non c'è Pierce, possiamo anche andare avanti all'infinito, ma vince lui. Cioè, io posso ucciderlo adesso, in realtà. Ma se fa nove vite, non ci stiamo mica più addietro. Sì, sicuro, Yotun, sicuro. Sicuro. Ok, Solemnity non è nove vite, intanto. Questo ci piace già tantissimo. Dobbiamo trovare spell Pierce. Subito, però. Dobbiamo attacchiamo con tutto. Combat. Devi parà. Ah no, no, ce la fa con le vite, ce la fa benissimo con le vite. Sì, sì, ce la fa benissimo con le vite. Facciamo così. E sningiamo ancora lui. Oh, se poi c'ha Pierce, cioè non c'ho Pierce in cima, comunque non ho la terra, quindi... Ciccia. Ciccia, 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 ciccia. Secondo me ha già vinto lui, per come sta giocando. Attenzione! Se non ce l'ha adesso... Vediamo, ce l'ha? Se ce l'ha vinto, se non ce l'abbiamo vinto noi. Eh vabbè, è andata così. GG. GG. 5-2. Ecco, già il fatto che Enchantment non sia presente nelle statistiche di Untapped è vergognoso, perché è fortissimo, come mazzo. È presente, lo giocano in parecchi, non ha senso che non ci sia. Cioè c'è Ragdos Vampiri e non c'è Enchantment. La serietà di Untapped è quella. Cioè, capito, ragazzi. Però mi raccomando, seguite tutti quelli che dicono che Untapped è il miglior tracker di Magic Arena e mi raccomando. Fate sicuramente bene. Seguiteli, dite che hanno ragione loro, a me non interessa, però sappiate che non c'è Enchantment ma c'è Ragdos. Esatto, c'è Mono Nero Nazgul e non quello, c'è Mono Red Artifact e non quello. Raga. No, lo so, toldo, ma... Guarda, le altre decklist, fanno veramente cagare. Cioè c'è un Esper Artifact senza Counterspell. È già quello, capisci, che non può essere vero. Non può essere vero. Ma già il fatto che abbia solo due milioni di partite e ci sono cinque milioni di giocatori, raga... e raga, vi prego, la serietà non è quella. È un'altra roba. Dipende come parte Mono G. Dipende come parte Mono G. Questo è un keep. Una mano un po' di merda in realtà. Troppo di merda. Questa... Questa è meglio, però virtualmente parlando è meglio perché in realtà Retrofitter se non è accompagnata bene è un pochino una perdita di tempo considerando che poi è maghi. Se questo adesso non lo sningio e non tengo protetto il Silver Foo con Spell Pierce potrebbe essere un gran disastro. Allora, è meno disastro di quello che mi aspettassi sinceramente perché adesso a parte aver pescato molto bene abbiamo anche la possibilità di fare di più. Vai. Eh, Mono G nuovo è molto forte, sì. Però è un po' instabile quello con l'E-Line. Mono Black Nazgul è un meme eppure Untapped lo mette come miglior mazzo ranked best of one historic, ragazzi. Cioè. E quella è la serietà di Untapped. Allora. Questo è un problema. Eh, va bene. Che ti devo dire? Questo è un problema. Lo rifà. Non lo rifà. Quindi ha deciso di tenerlo per dopo. Sono d'accordo, Nick. Assolutamente d'accordo con te. Assolutamente d'accordo con te. Ha senso fare doppio pezzo qui? Sì. Sì. Ha senso sì. Nessuno. Nessuno, Edward. Li guardate tutti, capite quali problemi hanno tutti e poi usate il cervello. Questa cosa qui che abbiamo in testa è la cosa migliore, ragazzi. Se bisogna sviluppare un pensiero critico sul gioco non bisogna andare dove tira il vento perché Tizio, Caio, Sempronio dicono X o Y. Vabbè, questo ha una lista di maghi che non esiste e ci ha battuto. Questa è una lista che non esiste, ragazzi. Nessuno gioca a me il true. Però ci sta. È un brutto matchup per noi. Quindi ci sta. Anche la mana base è sbagliata. Quindi ci sta. Ce li fa fuori entrambi e via. Provo ad aggiungere l'urrus ma se non pesco removal su Alcanista siamo morti. Comunque 5-3 per un totale di 6 più 11 scusate 6 più 5-11 Uh! Fermi! Fermi! Calma! Calma! Vai! Vediamo cosa succede. Sì, sì, vanno visti per spunti e basta. Perché il resto i numeri non sono corretti. Eh, vabbè. Ha pescato un altro, ragazzi. Che vi devo dire? Ne ha pescato un altro? Tu ne hai pescato un altro e hai ancora due mail true? Un mail true. Vai! Penso che passo qui. Esatto, gateway. Vabbè, quello è chiaro. Quello è chiaro. Quindi mi meltruizza adesso in faccia perché così rampa sull'elettro... No, non l'ha fatto per qualche motivo. Ha un'altra rimozione in mano? La deve fare a instant adesso, però. Ah, attenzione. Vai! Vai! Ci fa malissimo questo turno, lui. Senza dubbio malissimo. Vabbè, ho capito. triplo arcanista contro di noi. Sono quattro danni. Ah, ha sparato al pippolo? Ha sparato al pippolo. Beh, un sacco di gente non conosce il power level di alcune carte perché ne è deck e basta, raga, è nico. Quindi hai assolutamente ragione. Prendo. Questa è ottima. Allora. Non abbiamo doppio nero, mannaggia per l'urrus. penso che qui farò questa qua e anche il moon... No, non è vero. Dovrei sningiare il moon circuit in realtà. Però... perché mi serve terra nera da pescare ora. Però, secondo me, moriamo back. facendo queste mosse non portano assolutamente a niente. Perché non c'è un vero rimbalzo su Tottero. Vediamo. Mi fa pescare. Terra nera c'è. Ci piace anche. Possiamo stare open di Pierce. Speriamo che non abbia subito una removal che ci dà fastidio che può flashbackare con Arcanista. Wizard Retort. Ok. Quindi una versione un po' più contro là anche la sua. Solo che adesso noi non abbiamo i Totteri da poter rifare. Quindi se fa removal sull'urrus ha vinto. Eh, va bene, GG. Allora. 5 significa andare a modificare le statistiche in vittorie 11 su 8 totale. Quindi... No, adesso non 8, scusate, adesso vi dico i testi giusti. Allora, Dimir Ninja fa un bel 11 di vittorie e su un totale di 9 più 8 17 partite. Quindi 11 su 17 e già le percentuali sono molto diverse rispetto a un tappet. 11 su 17 stiamo calcolando che 11 su 17 dovrebbe essere di 66 67, no? 64. 64%. Mi è